Tra il tuo tipo di domande e la difficoltà di rispondere dopo che la voce di Toni Negri ha aleggiato un po' come lo spirito soffia dove vuole, capite che la cosa non è facilissima. Io partirei da una considerazione abbastanza netta, tutto questo insieme di interrogazioni su che cosa fanno gli stati nazionali e su che cosa fa la Costituzione finanziaria europea deve tenere presente che non c'è nessuna alternativa tra processi di rinazionalizzazione, ritorni della sovranità nazionale e Costituzione finanziaria europea. La Costituzione finanziaria europea si impone dal 2008 in poi, dalla crisi finanziaria in poi, come un processo di rinazionalizzazione. Non è assolutamente vero che c'è da un lato il mostro finanziario dell'Unione europea e dei nuovi istituti di questo diritto di emergenza che si è costituito dal 2008 in poi nell'Unione europea e i processi di ritorno alle sovranità nazionali. Dal 2008 in poi, pensate al Fiscal Compact e pensate al meccanismo europeo di stabilità, la finanziarizzazione ha funzionato come riscrittura della Costituzione materiale e formale europea a partire da un utilizzo delle sovranità nazionali e a partire da processi di rinazionalizzazione. Il meccanismo europeo di stabilità è un processo del tutto intergovernativo. Chi crea un'alternativa in qualche modo tra sovranità nazionali e Europa finanziaria dimentica che la finanziarizzazione ha costruito una Costituzione europea, una vera e propria Costituzione europea, probabilmente neanche uno spazio semplicemente di emergenza, ma un vero e proprio processo costituente europeo, anche se costituente nel senso del diavolo, costituente nel senso del capitale, ma l'ha costituito rinazionalizzando, rimettendo sulla scena i poteri delle sovranità nazionali. E trovando in questo la porta spalancata dal fatto che la socialdemocrazia europea si era da tempo divisa nel o accodarsi ai processi di gestione neoliberale della Costituzione finanziaria europea, oppure si era rifugiata, ma già dagli anni 90, pensate a certe parti del partito socialista francese, si era già rifugiata nel sovranismo. Il famoso no alla Costituzione europea che qualcuno ancora ogni tanto impugna come una bandiera di nostalgia segnava proprio la bancarotta di quella sinistra che non sapendo come essere all'altezza di quei processi si rifugiava nella difesa del sovranità nazionale. Il campo era aperto, quindi nessuna alternativa tra nazione e Costituzione finanziaria. La Costituzione finanziaria è il ritorno alla nazione, lo vedete nella gestione delle migrazioni. La gestione delle migrazioni è chiaramente un esempio di come il ritorno a processi di profonda distruzione di quel poco di integrazione di cittadinanza europea che avevamo raggiunto fino alla carta di Nizza, è andata di pari passo con la costruzione dello spazio del, come diceva Negri prima, del controllo, della Costituzione del controllo sulla mobilità della forza lavoro. Come si fa ad essere in qualche modo nostalgici del potere delle sovranità nazionali quando le sovranità nazionali sono state esattamente chiamate in causa nel controllo di quella forza lavoro. Le sovranità nazionali sono un punto essenziale della distruzione del progetto di integrazione europea. Certo, la nostra vera difficoltà è che noi con questo cambiamento di passo della Costituzione europea dobbiamo farci conti. Qualcuno di voi probabilmente è tornato adesso da Ventimiglia e forse ricorderà l'altra volta in cui i movimenti sociali andarono a Ventimiglia contemporaneamente all'approvazione della Carta dei diritti fondamentali europei. Quando si andò e si fu fermati a Ventimiglia perché si voleva andare a Nizza e si fu fermati a quelle frontiere, molti movimenti sociali erano nell'idea di poter attraversare una governanza europea, finalmente post-nazionale, erano nell'idea che per esempio la Carta di Nizza stessa poteva essere letta come qualcosa che i movimenti sociali potevano assumere e poi farci su battaglia, farci su espansione. Ora è evidente che con questa governanza europea noi non possiamo pensare quella specie di idea che ci eravamo fatti come dire, di complanarità, di attraversamento tra movimenti sociali e governanza europea che ci aveva nutrito fino a un certo punto. Ora ci troviamo davanti a una Costituzione europea che assume dei tratti di verticalità che mentre chiama le sovranità nazionali a risvolgere ciascuna il proprio ruolo unifica però dei tratti del comando nella Banca Centrale Europea e nel comando finanziario. Questo rende la governanza europea non più, come dire, tatticamente e placidamente attraversabile dai movimenti sociali. Si pone un comando verticale al quale i movimenti sociali possono rispondere e devono rispondere e cercando di tenere insieme, di sviluppare delle forme efficaci nei confronti del salto di qualità di quel comando europeo. Certo, questa risposta non può essere una postura nostalgica nei confronti della sovranità nazionale ma neanche una postura nostalgica nei confronti del buon potere costituente del tempo che fu. Nessuno oggi può immaginare che come un solo uomo in tutta Europa alla Giacobbina si sollevano i popoli d'Europa e producono un'assemblea costituente europea. Chi ragiona in questo modo non ha capito come l'alfabeto della Costituzione europea si sia trasformato. Quello che ci dà la possibilità di riflettere invece seriamente è questa rottura del 2011-2013. Quei movimenti sociali ci dicono alcune cose. Uno ci dice che la composizione di classe per usare un termine classico con cui abbiamo a che fare è una composizione estremamente eterogenea e non ha più a che fare con il soggetto sociale compatto con cui potevano ragionare le sinistre radicali o socialdemocratiche della traduzione europea. Quando il 2011-2013 dice siamo il 99% intende dire abbiamo un'anima moltitudinaria. Cioè siamo l'espressione di una eterogeneità che non può essere racchiusa nelle formule del soggetto politico costituente come lo potevamo pensare. Dobbiamo immaginare delle lotte costituenti, delle campagne costituenti che producano sì l'altra cosa che il 2011-2013 ci ha insegnato. E cioè che dopo l'apparizione di questa composizione moltitudinaria il gioco non finisce là. Ma è possibile, Grecia e Spagna secondo me significano questo, è possibile che si abbia un gioco tra produzione istituzionale e mobilitazione di movimenti che non sia a somma zero. È possibile cioè che esperimenti di verticalità politica che esperimenti di organizzazione politica non vengano a succhiare il sangue alla mobilitazione sociale e non siano neanche semplicemente l'espressione della mobilitazione sociale ma siano dei dispositivi che pur distinti rafforzano le mobilitazioni sociali lì dove le mobilitazioni sociali hanno incontrato i propri limiti. Questo è stato il 2011-2013. L'irruzione di soggettività molteplici che corrispondono alla moltiplicazione delle forme del lavoro, alle moltiplicazioni delle forme di vita, all'inesistenza di una soggettività sociale centrale e centrata come nella tradizione della sinistra classica e secondo l'apertura di uno spazio in cui la proposizione politica ragiona insieme alla mobilitazione sociale senza necessariamente cadere in quel maledetto pendolo tra sogno dell'autonomia del sociale e incubo dell'autonomia del politico in cui per esempio la tradizione italiana ci ha dato infiniti segni infiniti segni di caduta. Questo è stato il campo in cui oggi possiamo ragionare. Non ragionare su una nostalgia delle sovranità nazionali, essere consapevoli che la governanza europea non è più questo mare attraversabile ma è davvero un potere costituente finanziario ed essere consapevoli che la costruzione di un potere all'altezza di quel potere finanziario oggi deve viaggiare dentro risposte ed esperimenti di soggettività politiche che però abbiano fatto propria la lezione dell'eterogeneità, la lezione della molteplicità, la lezione moltitudinaria dei movimenti del 2011-2013. Questo è il campo. Ci porta all'immaginazione di campagne costituenti ben legate su elementi programmatici che tengano presente quel tipo di mobilitazione sociale e che evitino la nostalgia per il potere sovrano da un lato e la riproposizione di un'idea di Europa classicamente compatta, continentale, dai confini definiti, dal potere con la P maiuscola centrale in una certa tradizione. Credo che le lezioni che vengano da Siriz e Podemos possano essere reinterpretate come esperimenti di una politica adatta a quello che dal 2009 al 2013 è emerso sulla scena europea e che in una parola è la fine del lessico di quella tragedia socialdemocratica che era finita o nella nostalgia nazionale oppure nel servilismo nei confronti delle politiche neoliberali. grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti